salve a tutti adesso vi spiego come si crea in pochissimo tempo il led del brano don't worry di black eyepiece, shakira, devil get touch, vi comprate la vostra licenza di leaper perché non fa figo avere la versione free di leaper poi vi comprate anche la vostra licenza di nexus perché non si può avere la licenza craccata di nexus quando aprite nexus non si cerca nessun suono perché già il suono predefinito le assomiglia tantissimo l'unica cosa che manca è il portamento cioè quella cosa che fa l'uno da una nota all'altra allora si va in modulation si mette portamento ltg e si imposta tipo a8 ecco la quale differenza rispetto a prima eccolo qua questo è il suonetto se vi piace mettete un like e iscrivetevi sotto che suonetto volete per il prossimo video ciao